Se chiama cestone, abbiamo un amico in sedia a rotelle, all'estero, ai 7 secondi, 5. E' tutto pronto? Ragazzi, se non lo conoscete, lui è Renato Atti. Un uomo, una canzone. Renato! 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 Renditi sui! Renato! 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 E' comments erronea me Guldacchino! E' la realtà della città Occhio nel corretto, non so la città E' la realtà della 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 città Si si avresta la città E' la realtà della 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 città E quando arriviamo fuerti a noi, dimelo Grazie a tutti Grazie a tutti